Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme i biscotti con la zucca per altri. Prepariamo la zucca che utilizziamo per i biscotti, usiamo 180 grammi di zucca e adesso lo tagliamo a pezzi. E adesso frulliamo la zucca. Musica Iniziamo a preparare l'impasto per i biscotti. Formiamo una fontanella. Usiamo 550 grammi di farina 00. Mettiamo un pizzico di sale e un uovo intero. E adesso mettiamo 170 grammi di zucchero bianco. Musica E 6 grammi di levito per i dolci. Musica E adesso aggiungiamo il buro. 140 grammi di buro. Musica E adesso aggiungiamo il buro. 1 grammo di cannella in polvere. Musica Adesso lavoriamo con le mani. Musica Musica L'impasto è pronto. Musica Ecco qua, pronta. Adesso mettiamo la pellicola sopra. Musica Lo mettiamo in un frigorifero per un'oretta. Musica 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 Adesso stendiamo l'impasto. 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 Mettiamo l'impasto. Mettete il forno a 170 gradi. Mettete il forno ventilato. Mettete il forno a 60 gradi. 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 Ho messo un po' di zucchero a vello sopra il piatto come decorazione. E adesso mettete il forno a 60 gradi. 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 Grazie a tutti.